50 nuove guardie ambientali da domani saranno operative sul territorio cittadino. Entra così nel vivo l'avviso pubblico lanciato dal Comune per individuare associazioni di volontariato disposte a fornire la propria attività a tutela dell'ambiente. In via sperimentale per il primo mese e per un periodo massimo di un anno, le nuove guardie ambientali, 10 per ognuna delle 5 associazioni che hanno aderito al bando affiancheranno l'unità operativa tutela ambientale nelle attività di contrasto al fenomeno degli sversamenti abusivi e abbandono incontrollato dei rifiuti. Continua la campagna di sensibilizzazione e anche di repressione dei fenomeni negli sversamenti abusivi che stiamo facendo la polizia ambientale oggi con la collaborazione anche delle guardie ambientali volontarie, questo si potenzia, abbiamo un gruppo che si infoltisce e che ci darà la possibilità di un maggiore controllo sul territorio. Questa è una delle priorità perché speriamo in questo modo di stroncare i fenomeni dello sversamento illecito fatto anche da organizzazioni criminali, soprattutto alla verifica della città, ma anche di colpire quegli atteggiamenti incivili da parte di attività commerciali e anche dai cittadini che ancora non hanno compreso, che vanno rispettate le regole se vogliamo una città più bella e più pulita.